E' una delle figure più carismatiche nel panorama gospel internazionale Pastor Ronald Abbard che si è esibito con il Gospel Show al Teatro Petrarca di Arizzo per il Toscana Gospel Festival Una tappa che ha davvero appassionato il numerosissimo pubblico aritino presente in teatro Pastor Ron è in grado di cantare, ballare, recitare Ma è ispirato anche dalla Trinità Ron è infatti convinto che si possa divulgare la parola di Gesù Cristo Non solo attraverso un sermone ma anche con produzioni discografiche e nel palcoscenico Oggi siamo a 23 concerti in due settimane E' la dimostrazione che avevamo visto lontano Sinceramente forse non pensavamo fino a questo punto Però oggi il Toscana Gospel Festival è una realtà conosciuta, apprezzata in tutta Italia e anche in America Perché siamo considerati il festival più importante d'Europa Quindi questo motivo ci sarà Naturalmente sto parlando di il Gospel Però insomma poi specialmente nella nostra città riuscire ad arrivare al Teatro Petrarca E vederlo così gremito con gente entusiasta da qualche anno A noi ci fa veramente tanto piacere Come and behold him Born the king of angels O come let us adore him 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 O come let us adore him